eccoci bentornati siamo qui in diretta con questo episodio live di intubati io mi ero ripromesso appunto di ritornare sul tema dell'ultimo episodio di intubati che è stato appunto l'incontro con i ragazzi di the gladiator company in particolar modo loro il loro progetto è dedicato alla versione italiana il trainspotting trainspotting the italian chapter realizzato appunto da the gladiator company abbiamo qui con noi valentina galli che già avete conosciuto nel video di intubati che abbiamo dedicato proprio a loro a the gladiator company e insieme a francesco luongo anche il protagonista appunto di questa di questa avventura ciao 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 io inizio con questo contributo video che ci hanno rilasciato vi proponiamo adesso questo loro trailer animato è un'anteprima assoluta giusto sì 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 solo per voi molto molto breve ma comunque è molto molto conciso sì assolutamente no nella sua attività comunque molto bellino poi poi alla fine vi si riconosce anche molto bene in questa in questa piccola clip no ma infatti mi sono rivisto molto nel cartone animato i disegni sono sempre di un di un membro di the gladiator company giusto sì di un collaboratore esterno a dire il vero è un animatrice dalla turchia poi ovviamente è stato montato da un nostro collaboratore che è un collaboratore fisso giuseppe d'antuono e la musica invece di un musicista napoletano lorenzo 40 perfetto io prima di visto che hai parlato appunto di collaboratori esterni ma torneremo anche su su questo perché ce n'è da da approfondire assolutamente prima però visto che prima nel durante il video dedicato appunto a the gladiator company abbiamo parlato ampiamente appunto di the gladiator company quello che ha fatto valentino però anche conoscere meglio francesco luongo la tua carriera invece come attore come come si è sviluppata ecco parti dal presupposto che comunque molte persone cioè io soprattutto non sono non ho mai fatto questo tipo di progetto e di conseguenza non ero pronto quando me l'ha proposto valentina siamo partiti con un videoprova se non erro su uno scoglio qui a salerno dove ci fu la proclamazione per questo per questo ruolo all'inizio sono stato ero preso da tutta questa voglia di fare e che è continuata comunque per tutto il tempo per tutte le riprese anche perché comunque mi sono ritrovato accanto delle persone che hanno assecondavano tutto sai la risata anche è bello raccontare anche che ci sono state molte volte le ripetizioni da fare di conseguenza guarda arrivo ad oggi consapevole di essere soddisfatto di quello che ho fatto d'altronde sei proprio il protagonista 6 mark renton che è proprio il protagonista di 3 spotting beh ci sono anche altri due che sono protagonisti quindi siamo in quattro diciamo a prenderci la scena non ci sono prime donne siamo siamo tutte e quattro prime donne assolutamente no io sono curiosissimo di vedere la scena della bicchierata di cui mi ha raccontato la volta scorsa deve essere stato qualcosa di incredibile no invece parlando proprio di collaboratori esterni abbiamo parlato del fatto che ci sono delle collaborazioni a livello musicale in questo train spotting d'italian chatter con musicisti scostesi e mi dicevate anche anche oltre in realtà sì come ti ho detto nella puntata scorsa ovviamente noi siamo una famiglia siamo una squadra non so nemmeno come come dobbiamo definirci ma soprattutto operiamo anche a livello internazionale quindi abbiamo collaboratori che soprattutto per questo progetto hanno sposato l'idea di fare qualcosa per i fan fatto da parte dei fan quindi la classica dicitura del fan film per i fan dai fan e soprattutto per la colonna sonora io ho voluto riprendere tutte le cover cioè tutte le canzoni originali quindi ho preteso le cover delle canzoni originali e prendendo due film le colonne sonore sono praticamente enormi ho fatto realizzare ma più di una decina di canzoni e le usate tutte quindi per non appesantire il lavoro ho cercato un paio di musicisti su sui social sui vari social con degli hashtag amatoriali registrazioni a casa tutte queste cose qui e devo dire la verità sono arrivata negli stati uniti in australia in brasile e quindi abbiamo veramente un ventaglio di etnici paolo adesso avete aggiunto anche san marino esatto se ci pensiamo si praticamente si a che punto siete con i lavori per questo progetto e paolo dovresti chiedere al regista ah no sono io allora noi abbiamo abbiamo finito il premontato stiamo aspettando ovviamente visto uno spot animato perché ho voluto perché a me le cose semplici non piacciono inserire anche delle parti animate e ho chiesto queste parti animate un pochino tardi quindi ovviamente devo aspettare un attimo che finiscano ma questo coronavirus comunque ci ha bloccato proprio a livello fisico quindi avevamo lasciato alcuni doppiaggi io e francesco proprio perché abbiamo detto vabbè li facciamo dopo con calma e quindi ci mancano alcuni doppiaggi il monologo del signor renton qui presente però diciamo che la base il lungometraggio io so benissimo com'è perché ormai è concluso quindi siamo siamo comunque siamo a buon punto per quando riapriranno cinema teatri e ci permetteranno di fare una premiere come merita penso proprio che riusciremo a proiettare qualcosa di bello teneteci aggiornati tra l'altro pensavo il fatto che di sì il discorso delle musiche in effetti anche nel trailer che abbiamo visto all'inizio c'era comunque il richiamo sembrava di quasi sentire scegliete la vita scegliete un lavoro scegliete un televisore del cazzo sì ma infatti infatti è una cover senza senza ovviamente le parti cantate di last for life infatti proprio quella l'ha usata all'inizio del del primo film noi facciamo un nostro in bocca al lupo rimaniamo comunque in contatto perché voglio voglio vedere fino a che punto arriva questo progetto io devo fare una piccola diciamo il cosiddetto director speech ci tengo a farlo in diretta perché c'è francesco con me insomma come ha detto lui io non ho non ho scelto ma intenzionalmente persone legate al mondo della recitazione per fare sick boy tentone spad perché begbe l'ho fatto io ma anche io insomma non non ero molto addentrata nel campo della recitazione e ci tengo a dire che francesco si sente soddisfatto ma io devo devo assecondare questa cosa perché sono molto molto soddisfatta dei ragazzi che ho scelto per fare questa questa avventura perché come ha detto lui è stata un'avventura ci siamo divertiti prima durante e dopo nonostante io non facessi bagbe solo sul set ma soprattutto con loro dietro paolo non trovare mai valentina come regista diciamo che loro si giustificavano dicevano no ma noi ti facciamo arrabbiare così poi la scena ti viene meglio detto anche grandissimi ok va bene va bene va bene francesco in chiusura solo solo comunque ringraziare ancora ulteriormente valentino per per le possibilità che guarda involontariamente ci sta offrendo perché comunque è una possibilità di fare qualcosa di veramente bello assolutamente sì e se sicuramente lei è la prima che crede che ci crede da parte mia sa bene che dopo di lei comunque nel crederci sarà comunque supportata da tante persone perché io sono convinto che se non ci fosse questa questa voglia di crederci non saremmo potuti arrivare a questo punto assolutamente io vi rinnovo in bocca al lupo spero davvero che questo progetto nato nell'intervallo della visione del secondo train spotting vada veramente a gonfi e vele le premesse da quel che mi avete raccontato ci sono veramente tutte e ancora in bocca al lupo crepi grazie 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 a voi e chiudiamo qui grazie come sempre anche a voi che ci avete seguito in questo episodio live di intubati e buon proseguimento buona serata a tutti noi di radio web in volo ciao a tutti ciao 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 ciao